Figlia d'arte, il padre Sergio Nascimben, 1921-1971. Era un compositore di musica, cinema e teatro, e direttore d'orchestra. Comincia giovanissima la carriera di attrice debuttando nel film L'Esorciccio interpretandola. Parodia dell'indemoniata Linda Blair de L'Esorcista di William Friedkin. Nel 1976 sul set del film Il Garofano Rosso conosce Miguel Bosé, con cui instaura una breve storia d'amore. Nello stesso anno si ritira temporaneamente dalle scene e si sposa con un giovane imprenditore da cui ha due figlie Giada nata nel 1977 e Federica nata nel 1978. Nel 1979 interpreta il ruolo dell'amante di Lino Baffi nel film La liceale seduce i professori. Dopo una sofferta separazione dal marito, la sua carriera riparte con il film Identificazione di una donna del 1982. Nello stesso periodo vince il provino di un concorso indetto dalla RAI. Come protagonista assoluta di una serie televisiva tratta dai romanzi di Liala. Nel 1984, prende parte allo sceneggiato nata d'amore con il quale si aggiudica il premio Naxos Oscar TV. La quale durante i nove mesi di riprese, sboccia la storia d'amore tra lei e il cantante, attore Massimo Ranieri. L'anno successivo, nel 1985 è la protagonista dello sceneggiato I due prigionieri tratto da un romanzo di Laios Zilai. Quest'ultima interpretazione gli vale il premio Positano 83. In seguito decide di diradare nuovamente l'attività di attrice per dedicarsi alla propria vita privata. Con un'unica eccezione, partecipa ai cinque episodi della prima stagione della miniserie televisiva Il ricatto. Nel 1991 chiude la storia d'amore con Massimo Ranieri e nel 1994 prende parte a un episodio della fiction televisiva L'ispettore Sartium Poliziotto. Una città, affascinata al modo di lavorare dietro la macchina da presa. Affianca come aiuto regista, Giancarlo Scarchilli nel film Il Fobici e Luca Biglione nel film Elena 83. Ritiratosi nuovamente dalle scene, dal 2001 si dedica alla sua vera passione. L'informatica, creando la Delphinet, una società di successo nel campo del software e della comunicazione web.